Buon pomeriggio e bentrovati con questo appuntamento della nostra informazione in apertura alla cronaca. I dettagli della cattura dell'atitante a Salvatore Tedesco sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina alla Questura di Cosenza, il servizio della collega Francesca Bartoletti. Una sim telefonica acquistata a Castrovilla riavrebbe incastrato il latitante 34enne Salvatore Tedesco ricercato dal dicembre scorso per il tentato omicidio a Francoforte di tre persone, due turchi ed un serbo reato maturato nell'ambito di contrasti tra gruppi delinquenziali del posto. E' solo uno dei particolari emersi nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella Questura di Cosenza ed in cui il capo della mobile Giuseppe Zanfini ha restituito i dettagli delle varie fasi investigative che hanno condotto alla cattura di Tedesco. Il 34enne di origini italo-tedesche vanta un curriculum criminale corposo. Nessun collegamento con le cosche calabresi essendo nato e vissuto tostabilmente in Germania, ma forse qualche legame e contatto con la mala turca e di riferimento al traffico di droghe non solo. A fare scattare le ricerche è mandato di cattura internazionale messo dalla procura di Francoforte. Ci ha allertato la polizia tedesca qualche mese fa in quanto il tedesco Salvatore si era responsabile di un tripice tentato omicidio a Francoforte. E quindi lo si cercava in tutto il territorio internazionale, quindi in Turchia, in Italia e naturalmente in Germania. Quando abbiamo avuto la sensazione che potesse essere dalle nostre parti, quindi nella provincia di Cosenza, abbiamo attivato una serie di indagini che ci hanno permesso la cattura. I precedenti sono legati a criminalità organizzatoria di commessi a livello personale? No, sono precedenti di estorsione, traffico di droga e rapine. Da lì le articolate non semplici indagini che hanno condotto all'individuazione di una scheda telefonica attivata a Castrovillari è risultata falsamente registrata a nome del padre di tedesco, come ha dimostrato la firma palesemente tarocca. Da lì poi le intercettazioni telefoniche che hanno condotto all'individuazione a Corigliano Calabro della Titante, dove pensava di stabilirsi definitivamente in un appartamento ceduto da un amico inconsapevole del preso criminale del 34enne. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati poi quattro telefoni cellulari e documenti falsi. E continuiamo con la cronaca. 12 condanne e 21 assoluzioni nel processo domino scaturito nel dicembre 2009 dalla inchiesta sul crack del gruppo Esposito. Dopo circa sei ore di Camera di Consiglio, alle 16.30 di ieri, il presidente del Tribunale Massimo Forciniti, giudici all'Atere Gilda del Borrello e Luciano Altamura, ha letto nell'ex sala della Corte d'Assise di Crotone il dispositivo della sentenza del processo di primo grado scaturito dall'inchiesta della Procura di Crotone sul crack del gruppo Esposito, che faceva capo a Francesco Esposito, ai suoi tre figli e ai generi. 12 condanne e 20 assoluzioni, questa la sentenza del primo grado. Alla base di tutto è stata confermata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento delle società del gruppo Esposito, valutato dagli investigatori dei carabinieri della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere e di corruzione per le autorizzazioni del parco eolico San Biagio, sono venute meno le ipotesi di reato. Le indagini sono partite dal fallimento del 2005 di una società che faceva capo a Francesco Esposito e poi da altri fallimenti nel 2007 di società intestate alla famiglia, figli e generi. Nel 2009 scattò l'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Secondo l'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Ivan Barfante, i componenti del gruppo Esposito avrebbero distratto soldi, macchinari e beni dall'azione fallimentare, che per alcune situazioni è riuscita, per altre no. I giudici del Tribunale hanno, dopo sei ore e mezza circa di Camera di Consiglio, considerato che alcuni capi d'accusa erano sostenuti da prove. I giudici del Tribunale hanno assolto da reato di associazione a delinquere lo stesso Francesco Esposito, il figlio Salvatore, i generi Gustavo Commodari e Arcangelo Curto, Maria Cirillo, moglie di Francesco, condannata per concorso in bancarotta, a quattro anni e otto mesi, e le figlie Vittoria e Vincenza. Sono stati assolti da questa accusa anche Giacomo Elia, Pantaleon Antonio Cosentino, Antonio Carvelli, Gianfranco Murgeri, Rosita Cirillo e Renato D'Andria. La sentenza è stata dunque Francesco Esposito, 71 anni, condannato ad otto anni di reclusione, Gustavo Commodari, 53 anni, a nove anni e sei mesi, Salvatore Esposito, 44 anni, nove anni e dieci mesi, Arcangelo Curto, 46 anni, a cinque anni e sei mesi, Maria Cirillo, 71 anni, a quattro anni e otto mesi, Vittoria Esposito, 46 anni, condannata a cinque anni, Vincenza Esposito, 45 anni, condannata a sette anni e due mesi, Giacomo Pantaleon Elia, 41 anni, quattro anni e sette mesi, Gianfranco Murgeri, 47 anni, sei anni e tre mesi, Antonio Carvelli, 43 anni, sette anni e quattro mesi, Giovanni Mancuso, 47 anni e sono stati dati tre anni e quattro mesi, Paolo Commodari, 42 anni, un anno di reclusione con la sospensione della pena. Sono stati assolti Mario Elissi, Antonio Cosentino, Raffaele Megna, Carlo Annarumma, Francesco Iona, Giuseppina Iuliano, Francesco Cirillo, Luigi Curto, Maria Rita Greco, Giuseppe Herrera, Francesco Antonio Sulla, Francesco Bresciani, Maurizio Scerra, Carmine Amoruso, Raffaele Iannicelli, Rossita Cirillo, Maria Levato, Renato Dandria, Salvatore Frisenda, Michele Di Simone, Alessandro Granatino. E cambiamo argomento, otto posti letto per nefrologia e dialisi, questo è il risultato dell'incontro che si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Ne abbiamo parlato con il direttore generale dell'ASP crotonese, il professor Rocco Nostro. Professore Nostro, una novità venita fuori dopo la riunione che si è tenuta ieri, dopo l'incontro per il reparto di nefrologia, otto posti letto. Sì, è una novità molto positiva. Noi la stavamo, come dire, rincorrendo da ben tre anni, dopo una serie di riunioni, di lotte, diciamo, al Dipartimento, perché abbiamo fatto su questo argomento una battaglia, devo dire, a 360 gradi. Ieri si è svolto quello dedicato a nefrologia e dialisi. Anche per la dialisi abbiamo avuto una serie di nostre segnalazioni, delle nostre necessità che abbiamo esposto al subcommissario urbano, che è stato molto cortese, anche se fermo sulle proprie posizioni, a sentire e ascoltare le nostre richieste. Dopo una discussione ampia, lunga, dibattuta, diciamo, con soluzioni sul tappeto, poste per risolvere una buona volta per tutte questa problematica di nefrologia, siamo riusciti finalmente, direi in termini definitivi, a risolvere il caso con l'appostamento, direi la concessione, di 5 posti letto in più su nefrologia e 3 posti vengono presi dall'attuale 35 posti di medicina. Per cui il reparto di medicina sarà con 32 posti utilizzabili e nefrologia e dialisi avranno 8 posti a disposizione. Questo risolverà completamente tutti i problemi, perché il reparto sarà in autonomia, direi quasi integrale, anche se farà parte del Dipartimento della Fomedica e quindi sarà proprio alle dipendenze del Dipartimento di Medicina, però chiaramente avrà una propria autonomia, una propria responsabilità nella gestione dei nefropatici e quindi avremo risolto definitivamente il problema. È partita da Roma lo scorso 8 aprile la carovana antimafia che giungerà a Reggio Calabria domani presso la sede della Cooperativa Rom. L'evento dal titolo Le mani sulla città è stato presentato presso la sede di Libera. La carovana è parte di un percorso più ampio che le organizzazioni Arci e Libera portano avanti a livello locale e non solo. La tappa di Reggio Calabria sarà dedicata al tema della corruzione. Ai nostri microfoni abbiamo sentito Lucia Lipari della Cooperativa Libera. Libera insieme a Darci, a Viso Pubblico, CGL e Cisle Willa ancora una volta vogliono rinnovare il loro impegno a favore della memoria. Una memoria che non si croggiola nel proprio dolore, ma che si traduce nell'impegno quotidiano delle nostre realtà associative. La tappa è una tappa fondamentale qui a Reggio Calabria perché ancora una volta vuole sensibilizzare l'opinione pubblica, la cittadinanza e il territorio sull'importanza del contrasto alle mafie e quindi il dato fondamentale dell'impegno di tutti nel contrastare questo fenomeno. È ovvio che l'impegno è quello di richiamare l'attenzione di tutti sull'impegno, sulla consapevolezza che dalla coesione sociale, dal ricordare le proprie vittime, un territorio può crescere e cambiare la propria storia. Presentato in conferenza stampa ieri mattina presso la sala giunta del Comune di Crotone il progetto per la realizzazione del nuovo mercato ittico, il servizio. Assessore, questa mattina è stato presentato un progetto per un mercato ittico a Crotone. Sì, è il progetto che noi avevamo iniziato due anni fa, siamo riusciti oggi, ieri anzi, a firmare la convenzione, oggi presentiamo il progetto ma siamo già operativi da ieri perché i nostri uffici si sono già messi in moto con gli uffici regionali perché non abbiamo molto tempo. Ci assegnano 18 mesi ma noi dobbiamo essere bravi a consegnare questa struttura molto prima alla nostra città, una struttura importante, una struttura composta da due piani dove metteremo al centro una economia storica della nostra città che è quella della pesca. Noi siamo fiduciosi che questa struttura possa dare risorse nuove al mercato ittico, quindi alla pesca, alle nostre aziende che operano in questo segmento che storia e noi come amministrazione siamo arrivati primi con questo mercato ittico, quindi abbiamo un milione e mezzo da mettere subito in campo e cercare, ripeto, di rendere operativi per questo possibile questa struttura. Dove è questa struttura e come verrà costruita? Sì, è di fronte alla guardia di finanza, quindi tutta quella zona che come amministrazione comunale stiamo cercando di sollecitare dal punto di vista dell'attività, quindi è la zona del mercato ittico, è la zona del porto turistico, è la zona franco-urbana, sarà la zona che la nostra amministrazione vuole sicuramente incidere fortemente perché abbiamo detto che in questi anni questa città ha girato le spalle al mare, abbiamo visto in altre direzioni, oggi vogliamo guardare in faccia il mare perché riteniamo che il mare sia oggi una occasione di sviluppo della nostra città e il mercato ittico può essere un'occasione di sviluppo, è una struttura di tre piani dove ci sarà di tutto, ci sarà la vendita, ci saranno i controlli, ci sarà una banca, ci sarà un luogo di riunione, ci sarà un luogo di stoccaggio, quindi mettiamo in rete un sistema che oggi non c'è. Noi siamo arrivati i primi, abbiamo detto con questa struttura, ma ripeto, con i GAC, i gruppi d'azione costiera che stanno partecipando ai nuovi piani di lavoro dello sviluppo, pensiamo di portare a casa delle risorse strategiche in questa struttura, quindi noi dobbiamo lavorare immediatamente non solo a rendere operativa la struttura, ma dobbiamo lavorare con i GAC, il partenariato sociale, penso che su questo si aprià una bella discussione immediata con la nostra città. Saranno le tre università della Calabria ad incubare tramite apposito finanziamento i progetti migliori usciti dagli spin-off di Calabria Innova. Nella sede di Sant'Eofemia Lamezia, in provincia di Catanzaro, ha preso il via la formazione dei giovani ricercatori calabresi. Presso la sede di Fondazione Terina è iniziata la formazione dei 109 ricercatori che fanno parte dei 29 spin-off individuati dal progetto Calabria Innova. Le migliori idee d'impresa verranno finanziate per svilupparsi poi nei tre Atenei regionali. Noi abbiamo pubblicato due avvisi pubblici. Un primo avviso pubblico che si chiama Spin-off della ricerca. L'obiettivo era quello di intercettare idee d'impresa innovative che nascono nel mondo del sistema universitario ed è il primo step che stiamo avviando con 29 potenziali spin-off della ricerca oggi. Abbiamo chiuso anche il bando Start-up Innovative. È in corso di pubblicazione la graduatoria. Tra 15 giorni avvieremo l'altro Talent Lab, che è il Talent Lab Start-up Innovative. Prevalentemente, ma diciamo in linea con quello che è il trend nazionale, si tratta di imprese che operano nel settore ICT, però particolarmente significative sono le idee d'impresa che ci vengono dal sistema della ricerca che opera nel settore del LifeSense. Non a caso l'Università Magna Grecia è particolarmente attiva negli ultimi anni in questo campo. Abbiamo qualcosa sulla social innovation e qualche idea d'impresa anche sull'industria. Nei prossimi due anni saranno oltre mille i giovani ricercatori e laureati delle nostre università che potranno impegnarsi nel terreno della ricerca per migliorare la qualità della vita, lo sviluppo economico nella nostra regione. Ritengo che sia un passo importante perché finalmente si sta realizzando una rete regionale dell'innovazione che può mettere la nostra regione avanti rispetto al resto del Paese, recuperando i ritardi del passato e coinvolgendo la nostra prima autentica risorsa, i nostri giovani laureati. I rischi della liberalizzazione del mercato energetico e la tutela dei consumatori al centro dell'incontro pubblico che l'Associazione Codici ha indetto presso la sede del CSV Aurora di Corotone. L'Associazione Codici oggi ha creato un appuntamento molto interessante, attenti alle truffe e il titolo, dedicato ai falsi contratti sull'elettricità, sul gas, sulle utenze casalinghe. Sì, questo è vero. Oggi è stato un appuntamento molto importante anche perché di questi pervengono anche parecchi reclami presso la nostra associazione di gente che viene messa anche in condizione di allarmismo, dove vengono configurati contratti in ormai richiesti, firme false e in più cambi di gestori. Sembra che tutto questo nasca dalla liberalizzazione del mercato e qualcuno ne sta approfittando. Questo sì, non abbiamo niente al contrario con la liberalizzazione, però che si faccia un pochettino anche chi va a casa della gente a mezzogiorno, in un altro magari orario, che venga detto a che cosa va incontro. Perché parecchia gente sembra che magari ha diritto a una promozione, cosa che non è, e poi si ritrova dopo 20-30 giorni una bolletta esosa. Quali sono i casi più significativi, quelli che creano un po' più clamore? Quelli che creano più clamore sono i casi truffa, quelli dove vengono messe firme false, vanno direttamente sulle abitazioni a suonare in orari sconci, dove viene richiesto anche il numero di codice cliente, siamo dell'Enel, siamo qui apposivamente per farvi consumare di meno, di questi secondo me bisogna diffidare. Cosa può fare il cittadino per difendersi sia preventivamente sia dopo essere caduto in queste trappole? Secondo me rivolgersi immediatamente a qualsiasi associazione dei consumatori, in modo che abbia correttezza della situazione e che lo tuteli fino alla fine, anche perché determinati procedimenti solo l'associazione dei consumatori li può conoscere e può metterli in campo nella piena tutela. E le associazioni consumatori danno garanzia non solo, ma tutela anche gratuita? Sì, questo sì, siamo una maggior parte che diamo la consulenza legale e fiscale gratuita, codici ne riceve parecchi di questi reclami e come infatti la prima cosa che viene posta come inizio è il reclamo direttamente alla società e davanti all'autorità garante e dopodiché nella seconda fase se non si è contenti o soddisfatti si va in procedure di conciliazione. Qual è il consiglio finale che possiamo dare ai cittadini? Il consiglio finale ai cittadini è di fidare determinate situazioni che si vengono a porsi durante la giornata, magari pure io mi capita, dice sottoscrivete qua, avete questa promozione, diffidate perché non è vero. Una conferenza stampa nella sala degli stemmi della provincia di Cosenza su immigrazione e accoglienza, discutere lanciando la loro proposta alcuni sindaci del territorio provinciale cosentino. Una nuova emergenza, quella che si profila in Calabria, dirlo sono i sindaci del Cosentino che hanno aderito al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRARRA, il sindaco di Acqua Formosa Giovanni Manoccio, il sindaco di Cassano Allo Ionio Gianni Papasso, il sindaco di Cerzeto Giuseppe Rizzo e il primo cittadino di Trebisacce, Francesco Mundo. E si riferiscono proprio all'accoglienza dei rifugiati, ma soprattutto al modo in cui la politica gestisce il fenomeno affrontandolo come se si trattasse di un'emergenza dell'ultima ora quando a dire dei sindaci si tratta di un fatto più che prevedibile. Un problema che si è fatto sentire ancora di più con gli sbarchi degli ultimi giorni sulle coste siciliane. Questione di cui si è discusso nel corso di una conferenza stampa cospitata dalla Sala degli Stemmi della provincia di Cosenza. È un ripetersi di storie e di scenari già visti. Noi pensavamo di aver superato ormai questo fatto emergenziale, pensavamo a una gestione ormai ordinaria dei flussi. Invece ancora una volta si sta ripetendo quello che è stata la triste vicenda di due anni fa con l'emergenza Nord Africa. Però il paradosso è che in questo momento noi abbiamo un bel po' di posti liberi all'interno dello Sprar e invece ci sono le prefetture che attraverso il Ministero degli Interni stanno destinando i migranti in posti diversi da quello dello Sprar. Ha conformato un fatto a parte nel senso che lì sperimentiamo anche da questo punto di vista come si possano unificare i due sistemi, i due modelli. E i sindaci lanciano un appello accorato alle istituzioni. Ho lanciato un appello perché quando i nostri amici, i nostri fratelli africani incominciano per la prima volta a dire che i prezzi delle migrazioni sono scesi, che ci sono forse centinaia di migliaia di persone che vogliono attraversare il Mediterraneo, che hanno visto anche europei girare in questi porti. Io che sono calabrese, che non nascondo che ci sono fenomeni degenerativi nella nostra Calabria, penso che questi flussi possono arricchire qualcuno. E quel qualcuno non può che essere l'andrangheta, la mafia. Per cui chiedo che anche la Commissione Nazionale Antimafia incominci a porsi il problema. Puntata zero della nuova trasmissione che andrà in onda su RT Calabria. La combinazione, un quiz a premio condotto in studio da Mimmo Arena e Piero Pili con la partecipazione di tanti ospiti. L'appuntamento in onda tutti i mercoledì e domenica alle 21. Vediamo. Mimmo Arena, ciao, come stai? Buongiorno, buongiorno, tutto bene. Siamo pronti per questa puntata zero della combinazione? Ma pronti via, prontissimi, parte la puntata zero proprio questa sera di questa straordinaria trasmissione televisiva giochi a premi e quiz a volontà. Giochi e premi e tanti quiz, una serata particolare, una serata che sarà allegra e che ci darà la possibilità di capire quale sarà proprio il vero significato di questa trasmissione. Intanto diciamolo subito che sono tantissimi gli sponsor che hanno messo a disposizione veramente dei regali prestigiosi. Il gioco si chiamerà La Combinazione proprio perché oltre a vincere il piccolo premio che è poi un premio sostanzioso, un grande premio si troverà proprio nella cassaforte, cioè coloro i quali indovideranno la combinazione della cassaforte avranno questo premio, premi particolarissimi che vanno un po' dal gioiello ai buoni spesa, ai servizi, sono tantissimi premi veramente importanti. Avete fatto un bel team di lavoro per questa trasmissione e la combinazione tutti insieme e ci riserverete sicuramente anche tante risate. Ne abbiamo bisogno insomma di essere un po' più allegri. È un momento che dobbiamo sorridere, ne abbiamo bisogno veramente tutti quanti in questo periodo turista ma noi ci dobbiamo divertire. Con un cast veramente d'eccezione a partire dai nostri dai conduttori dai Mimmo, Arena e Marica, poi avremo il grande Piero Pili con Carlo Crea, due personaggi straordinari, con la supervisione in regia superparte il grande Claudio Regalino che sarà lui l'artefice superparte che deciderà lui. Quindi ci sarà la Corte Supremia ma chi deciderà il tutto sarà Claudio. Poi tante belle ragazze moda, musica, spettacolo, un po' di tutto. Dobbiamo aggiungere a questo che chiaramente c'è anche Elio Greco. Elio Greco per la parte musicale perché Lele Sax ci incanterà col suo sassofono ma non solo perché lui è anche un bravissimo cantante quindi molti quiz saranno in chiave musicale e lui ce le interpreterà sicuramente in modo egregio. Allora questa sera vi aspettiamo sul canale 12 puntata 0 proprio per darvi l'opportunità di scoprire come questa televisione in continuo movimento vi vuole offrire delle serate particolari. Conduce Mimmo Arena. Volevo appunto ricordare che noi andremo in onda sul canale 12 chiaramente in Retti Calabria tutti i mercoledì e le domeniche in prima serata quindi avremo modo di divertirci proprio mentre siamo a casa a cenare a divertirci. Siamo in diretta quindi chiamateci. Chiamateci al 20.000 0962 20.000 la combinazione. Il telegiornale torna alle 17 adesso lo sport grazie per averci seguito buon pomeriggio. Dopo tre pareggi consecutivi in casa l'obiettivo contro il Valese adesso sono i tre punti bisogna tornare a vincere all'uscita ma bisogna soprattutto ritrovare la giusta determinazione nel gioco perché a detta di tutti i giocatori compresi la prova contro i Leccarpi ha suscitato qualche perplessità e sostanzialmente quando gli avversari bloccano le fasce laterali il Crotone sembra perdersi nel vuoto. Già in altre circostanze è successo ma la capacità e la perspicacia del nostro allenatore hanno avviato diversamente trovando in corso d'opera altre soluzioni contro il Carpi quello che probabilmente ha influito è stato l'aspetto psicologico vediamo a tal proposito cosa ne pensa Crisetig ai nostri microfoni. non avendo disputato un'ottima gara sabato cerchiamo di migliorare di riabituare i nostri tifosi nostra gente alle belle prestazioni che abbiamo abituati in tutto il girone d'andata e in questo inizio di ritorno. Secondo te il Varese può essere paragonato al Carpi per mentalità di gioco e per mentalità legata questa volta per loro a posizioni di classifica? Sicuramente loro sono in cerca di vittorie di punti che potrebbero che gli aiuterebbero a salire di classifica e arrivare in zona playoff. Noi dal nostro canto dobbiamo cercare di vincere di tornare alla vittoria giocando bene con la nostra velocità con i nostri scambi con la nostra capabilità che abbiamo sempre dimostrato. Correggimi se sbaglio ma si può arrivare alla vittoria anche giocando male? Sì sicuramente si può vincere in tutti e due modi però noi come abbiamo detto cerchiamo sempre di fare una buona prestazione poi il risultato è secondario. Voi crotonesi mi riferisco a voi appartenenti al crotone quanto ci credete di raggiungere l'obiettivo dei playoff? Molto essendoci lì in questo momento adesso è diventato quasi l'obiettivo primario sembrava sentite un peso su di voi? No sicuramente noi cerchiamo di giocare sempre al massimo come ho detto poi è ovvio che quando ti trovi dentro magari ti fa ingolosire dalla posizione cerchi magari un giochi un po' più appesantito però non penso che sia questo un problema Che Varese ti aspetti? Varese sicuramente molto agguerrito dopo aver perso l'ultima partita contro il Bari 1-0 in casa Basterebbe una vittoria giovedì con il Varese per ristabilire il punteggio dell'andata? Sì dovremmo ristabilire il stesso punteggio dell'andata con gli stessi punti che abbiamo fatto fino a questo momento nell'andata in questo giro di ritorno una quota che ci consentirebbe di disputare i play-off matematicamente Sì quello sicuramente noi cerchiamo di fare anche meglio però sicuramente bisogna guardare partita per partita perché adesso diventeranno ancora più complicate e ogni partita diventerà come una finale Prima vittoria in campionato per la ravinante Sauritore dopo due sconfitte gli uomini di Felice Amideo nella piscina olimpionica di Crotone conquistano i primi tre punti stagionali che sollevano il morale del team pitagorico Certo la prima vittoria comunque soltanto tre partite questa è la terza quindi ancora tutto un campionato da giocare una squadra che è preparata una squadra che ha molta voglia di fare purtroppo è iniziato un po' così ma Secondo te ci sono le condizioni per riprendersi? Certo certo i ragazzi stanno bene sono in forma nuotano abbiamo un impianto da 33 metri insomma per la palla nuoto il campo olimpionico quindi nuotano tutti i giorni si allenano in un impianto così quindi hanno tutte le carte in tavola per fare bene questo campionato Ci sono le condizioni per riprendersi? Beh nello sport tu mi insegni che le variabili sono molteplici non sempre magari vince chi ha maggiore tasso tecnico ma ci sono tantissimi elementi che concorrono a un risultato noi dobbiamo solo pensare a giocare poi tutto quello che viene è positivo e ci auguriamo che la prossima abbiamo 15 giorni di fermo abbiamo il modo di preparare la prossima trasferta che è molto difficile perché la neopromossa d'arma che sembrava di di Casa Massima che sembrava la squadra Materasso invece in realtà sta facendo un grandissimo campionato ed è la squadra probabilmente la squadra che mira a vincerlo il campionato però noi andiamo con la stessa umiltà concentrazione che ci ha caratterizzato a Modugno e poi tiriamo le somme alla fine Boccalupo Crepe Crepe sicuramente potevamo giocarla avrebbero vito meritatamente ma sicuramente non con un divario di questo genere perché è venuto a mancare un attaccante e un portiere quindi alla fine doppio inganno ma la Tritone giocherà bene nella partita di ritorno e dà tutto il merito comunque al Crotone che non ricordo i vostri obiettivi i nostri obiettivi sono quelli di cercare comunque di rimanere in questo campionato di fare comunque bella figura e di mantenere i giovani a contatto con questo sport per cercare comunque di non far perdere quella realtà che i più grandi hanno cercato di creare è una vittoria che ridà morale dai soprattutto serviva soprattutto a questo serviva soprattutto il primo tempo giocato in questo modo il primo tempo nuotato più che giocato a pallonuoto perché noi comunque siamo una squadra di brevi linei quindi abbiamo bisogno del nuotare abbiamo bisogno delle controfughe abbiamo bisogno di tante ripartenze per poter dettare il nostro gioco diciamo che più arrembanti siamo meglio è perché non abbiamo la forza fisica per giocare alla pari in uno sport che sta diventando comunque sempre più complicato e sempre più intenso anche per quanto riguarda proprio la forza fisica in bocca al lupo crepi il lupo grazie grazie a tutti grazie a tutti